La felicità Differenza, speranza, tutto per essere felici. Bisogna fermarsi, guardare. Abbiamo visto uomini andare oltre il proprio corpo, atleti, con al collo la medaglia dell'umanità. Volti che alla fatica hanno risposto con un sorriso. Tutto perché lo sport è per chi ama la bellezza. Per chi crede ancora che un semplice gesto atletico ed umano possa cambiare il corso della storia. Non c'è nessuna misura da battere per essere felici. Bisogna fermarsi, guardare. No, non è solo un gioco. È molto di più. Bellezza, condivisione, lealtà, amicizia. Questo è quello che vogliamo farvi vedere. Questo è quello che viviamo. È tutto qui. La palla è in campo. Enjoy the game.